Buonasera a tutti e buon venerdì santo. Oggi è il 29 marzo, sono le 9 e un quarto di sera e sono stato molto molto prudente oggi per il fatto che sto ragionando di dove sia partito effettivamente il terzo T-3 se si sia già vincolati a ribasso e se si tratti del terzo T-3. E sì, durante i giorni in cui non ci sono particolari volumi, i mercati tradizionali sono fermi perché oggi lo sono e lo saranno fino a martedì, eccetera i futures per gli Stati Uniti, la prudenza è sempre assolutamente d'obbligo. Ci sono meno operatori sul mercato e quindi c'è la possibilità con meno soldi di muovere più facilmente a rialzo o ribasso determinate posizioni. Perché vi racconto questo? Perché noi da qua abbiamo solo come condizione il tempo per la partenza di un nuovo T settimanale. Non mi sembra di aver visto nessun commento che mi dicesse no, guarda, siamo ritornati sopra. Questo secondo massimo ha superato questo primo e quindi ci ha portato a fare quelle sette barre che vanno bene per chiudere appunto questo bisettimanale inverso. Adesso andrò però a ricontrollarmelo io perché con una discesa fatta di questo tipo è sempre meglio evitare di avere sorprese. Soprattutto non siamo andati long perché non c'è stato il vincolo appunto a salire e quindi possiamo togliere questo allarme per valutare un long e invece scattato quello ribasso. Ed essendo scattato quando? In che candela? Essendo scattato alla ventesima candela, chiunque abbia fatto short come raccontavo e abbia seguito in trailer, poco ma l'ha portato a casa, soprattutto se sa fare trading, ok? Perché qui siamo arrivati fino alla ventottesima barra prima di avere un sussulto rialzo. Il rialzo tra l'altro c'è stato, ha dato modo al terzo T-3, al supposto terzo T-3 di partire, ma facciamo ancora un passo indietro. Il passo indietro appunto è questo. Potremmo essere a 9, 10, 11, T-3. E ancora in chiusura di questo ciclo che è iniziato dunque il 20, quindi siamo al 29. Perfetto. C'è tutto il tempo a disposizione anche sulla centratura daily per andare ancora a chiudere. In realtà questo ciclo settimanale, che può essere tra l'altro anche ormai qualche cosa di più di un settimanale, visto peraltro la spinta, visto il fatto che siamo passati dall'ambire alla media mobile a 200 periodi a venire respinti, al riuscire a superarla invece, portare la media mobile più veloce, quella rossa, in Golden Cross e quindi spingere a salire e ritrovarci sopra. In questo momento però siamo sotto. Per cui bisogna vedere se non voglia di andare a pescare su questi livelli di liquidità per o andare a chiudere tutto il settimanale, oppure non violare questo minimo e ritornare appunto a salire. Perché? Perché tempo fortunatamente per chiudere questo bisettimanale inverso ce n'è ancora. E perché è vero, l'avete notato fortunatamente, l'ho visto nei commenti, vi siete accorti che come vi dicevo, perché ve lo dicevo tra le ricche, dato che abbiamo fatto giovedì 21, 2, 3, 4, 5, 6, noi abbiamo un settimanale inverso fatto e finito con condizione necessaria e sufficiente per chiudere dai cicli giornalieri, dalle candele giornaliere, ma ciò riprovato, non riesco a trovare la stessa cosa a livello di t-3. Qui si arriva al quinto t-3, punto, non si arriva al sesto. Per cui, stante questo dubbio, questo dubbio del stiamo ancora chiudendo il ciclo settimanale o è partito il nuovo settimanale perché non abbiamo uno swing a conferma, il mio suggerimento in questo periodo, soprattutto con volumi bassi, con il fatto che domani poi ci sono appunto sabato e poi dopo domani domenica, che festa, che ci saranno poche peratoie, fate estremamente attenzione, magari lasciate perdere il trading. Rischiate soltanto di beccarvi dei movimenti che vi mandano in stop loss durante le operazioni e come di consueto proverò appunto a trovare il tempo per aggiornare la situazione perché comunque mi fa piacere, però con tutti questi dubbi metto le mani avanti. So che se anche Cristiano Ronaldo, se anche Lebron trovano il tempo per riposarsi, è giusto anche riposarsi da un'attività così intensa come il trading, anche perché lo facciamo dalle criptovalute agli indici passando per le commodity. Quindi non è un lavoro semplice, mi rendo conto della stanchezza accumulata negli scorsi giorni, quanto comunque sia un'attività che consuma energia. Ci danno l'opportunità, l'universo ci dà l'opportunità di ritornare a riposarci un po', sfruttiamola, d'accordo? Penso che possa essere tutto per un aggiornamento, vi ringrazio per il vostro tempo, se vi è piaciuta l'analisi, ovviamente mettete un bel like e indicizzate al meglio il canale consigliandolo a tutti gli amici. Buona giornata, anzi, buon venerdì santo a tutti, arrivederci!